Sarà online da giovedì 16 marzo il videoclip del nuovo singolo dal titolo Scarabocchio di Salvo M. La presentazione avverrà, come ormai di consuetudine, sulla pagina Facebook ufficiale dell'artista orlandino. Il giovane cantautore, ormai da sei mesi trasferitosi a Milano, prosegue così il suo percorso artistico, curando molto l'attività live che si divide tra basking, locali, radio e contest musicali, come ad esempio il Fiat Music di Red Ronny, uno spazio itinerante dedicato alla musica emergente del panorama italiano e nel quale entra a far parte a febbraio grazie alle audizioni svoltate a Sanremo, proprio durante i giorni della nota Kermez. A questa importante attività si aggiunge il tour di pubblicazioni dei singoli appartenenti al nuovo ed inedito progetto discografico in Continuo Walk in Progress. E questa volta è il turno di Scarabocchio, una nuova canzone sulla quale l'artista si rivela con una canzone molto intima ma allo stesso tempo universale. Lo Scarabocchio, in questo caso, diviene metafora di un fare, di un essere che rispecchia l'imperfezione. Salvo M, per questo terzo d'assello della sua nuova produzione artistica, riconferma l'ormai consolidata collaborazione professionale con La Forge Creative Chambers di Roberto Lafauci come arrangiatore e producer. Per quanto riguarda il videoclip, si avvale della professionalità di Giusy J. Pellegrino, illustratrice, e Gero Guigliardo, videomaker. Grazie a tutti!